E scale E chi sei tu? Bello, io sono il guerriero dragone Tu? Lui è un panda, sei un panda Che intendi fare, trippone? Sederti su di me? Non tentarmi? No, intendo usare questa La vuoi? Vieni a prenderla Finalmente La pergamena è mia! Vieni a prenderla Vieni a prenderla Lampo No, no, no Vieni a prenderla La percamena gli ha dato potere! No! Finalmente! Ah, sì! Il potere della percamena del drago è... mio! Non c'è niente! Tranquillo, neanche io ce l'ho arrivato subito! Cosa? Non esiste un ingrediente segreto! Sei solo tu! Smettila! No! No, me la faccio sotto! No! No, dai! No! 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 Oh Tu non puoi sconfiggermi Tu sei solo un grosso lardoso panda Non sono un grosso lardoso panda Sono il grosso lardoso panda La presa del dito Buxi Oh, conosci questa presa? Stai bleffando, stai bleffando Shifu non te l'ha insegnata? No, l'ho immaginata Skadush Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti